Buongiorno a tutti, oggi siamo in collegamento con Luca Steinman, giornalista freelance e analista geopolitico della rivista Limes. Buongiorno Luca, grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Allora, sei praticamente l'unico giornalista italiano che è stato presente sul fronte russo dall'inizio della guerra in Ucraina. Raccontaci un po' come è stato e quali sono secondo te le cose più importanti che dovremmo tenere conto e di cui forse ancora i media non hanno parlato. È stato un grande esercizio giornalistico innanzitutto, nel senso che io insieme a Gabriele Michalizzi, il fotoreporter che lavorava con me, siamo entrati il 18 febbraio nel Donbass prima che iniziasse la guerra e poi tutto è arrivato molto velocemente. Il 19 le autorità russe hanno chiuso le frontiere del Donbass, quindi diventerà impossibile entrare nel Donbass passando dalla Russia per i giornalisti. Quindi ci siamo trovati ad essere veramente tra i pochissimi giornalisti e reporter occidentali sul territorio, nel mezzo di una vera e propria guerra che è anche di propaganda naturalmente. Se si vedono le notizie che vengono dalla Russia, le notizie che vengono dall'Ucraina o dall'Occidente sono molto diverse evidentemente. E quindi noi ci trovavamo ad essere i rappresentanti quasi unici dei media occidentali in un territorio considerato come ostile. E per questo spesso venivamo visti noi stessi come ostile da parte dei russi, da parte di alcuni russi, soprattutto dell'amministrazione dei soldati, russi o filorussi del Donbass appunto, che vedevano in noi dei potenziali propagandisti nemici, se non addirittura delle spie. Al contempo dovevamo stare attenti che invece il nostro pubblico in Occidente, che ci vedeva raccontare il conflitto in maniera così diversa rispetto agli altri colleghi che erano sul lato degli ucraini, perché noi ci trovavamo come unici reporter sul fronte russo, dovevamo stare attenti a non essere tacciati, di essere compiacenti in qualche modo con i russi, se non filorussi. Quindi è stato un esercizio molto interessante, molto arricchente, anche molto pericoloso per certi versi dal punto di vista professionale, non privo di problemi, abbiamo avuto dei problemi anche legati all'emessicuzza per esempio, però è stata anche una piattaforma veramente privilegiata per vedere questa guerra dall'interno come quasi unico testimone in assoluto, e quindi abbiamo veramente potuto raccontare tappa dopo tappa, ho potuto raccontare tappa dopo tappa quello che succedeva, quindi ho iniziato a raccontare quello che succedeva nella città di Danetsk, poi spostandoci con le truppe russe sempre più verso sud in direzione di Mariupol, l'assalto poi a Mariupol, la battaglia dentro Azovstal, dentro acciaieria dove c'erano appunto i soldati ucraini, e io sono entrato in questa acciaieria seguendo le milizie cecene, e poi infine ho raccontato diverse altre fasi di questa guerra, in tutto sono stato quasi sei mesi sul territorio, nelle regioni di Lugansk, nelle trincee, poi anche all'interno della centrale di Zaporizia che si trova nel sud dell'Ucraina, la centrale nucleare contesa tra rossi e ucraini, quindi insomma è una guerra molto lunga, molto complicata, molto vicina a casa nostra e a quanto pare, da quanto stiamo vedendo nelle ultime ore, e beh, purtroppo probabilmente sembra che sarà ancora molto lunga nel tempo. Quindi io penso che la storia di questa guerra sia anche veramente una storia di drammi esistenziali, di spaccature di famiglie e di spaccature interiore tra civili, tra cittadini, tra soldati, che si trovano veramente confrontati con questa crepa che io penso rimarrà nel tempo. Ecco, qualora la guerra dovesse finire domani, non sarà così, ma imponiamo che sia così, beh, questa rottura, questo grande contrasto rimarrà e anche questa grande domanda identitaria, chi siamo noi come russi? Siamo nemici dell'Occidente? Siamo nemici dell'Ucraina? Però al contempo amiamo l'Occidente e l'Ucraina? E quindi è una grande domanda che penso che andrà studiata, analizzata nel tempo. Partendo dal discorso di Putin, io penso che questo sveli quello che già sapevamo, ovvero che questa guerra non è più considerata dalla Russia come una operazione speciale militare, tra virgolette, quindi come un'operazione militare che riguarda un determinato territorio. No, questa è una guerra che riguarda tutta la Russia, tutto il paese, tutto il popolo russo. È una guerra generale. Ma questo lo sapevamo già, se pensiamo per esempio come in agosto vi fosse stato un omicidio alle porte di Mosca, parliamo di Daria Dugin, quindi un'ideologa vicina alle posizioni del Cremlino, beh questo testimoniava già come le conseguenze della guerra fossero arrivate veramente già alle porte del Cremlino. E questa dichiarazione di Putin, questa presa di posizione di Putin, in qualche modo mostra che la Russia si sente in guerra e sentiremo sempre più parlare di guerra, una guerra che non viene considerata soltanto come combattuta meramente in Ucraina e nel Donbass, ma è una guerra, uno scontro percepito dalla classe dirigente russa e da Putin come epocale, titanico, contro una visione che viene descritta come l'opposta a quella russa, cioè la visione occidentale. Quindi sicuramente stanno prevalendo in questi mesi, perlomeno in questa fase storica, all'interno del Cremlino quelle correnti di pensiero più determinate nel confrontarsi con l'Occidente, nello scontrarsi con l'Occidente e meno quindi inclina a trovare dei compromessi per salvaguardare, per esempio, le relazioni economiche che c'erano prima di questa guerra tra Russia e Occidente. Quindi questo è come primo punto di rottura storica, apicale, fondamentale. Il primo passo di questa rottura lo stiamo vedendo nel Donbass, dove la Russia ha indetto dei referendum in maniera così rapida nei territori di Danetsk e di Lugansk che cambieranno certamente, vedremo poi in che forma, il corso della guerra in Ucraina. Non si tratta più di stati che la Russia riconosce come formalmente legittimi, quali erano le repubbliche di Lugansk e Danetsk, ma si tratta di uno scontro tra la Russia e l'Ucraina. Ucraina che è armata direttamente dalla NATO e dall'Occidente. Quindi è la prima volta che in Europa sia uno scontro militare diretto tra Russia e Occidente. Calcoliamo che, per esempio, gli addestratori delle truppe NATO sono presenti adesso nella regione di Kharkov, nel nord dell'Ucraina, dove gli ucraini stanno avanzando. Quindi è veramente un punto di non ritorno nel momento in cui c'è uno scontro militare diretto tra due fronti, e quindi tra il fronte russo e quello occidentale. E quindi questo può portare anche al degenerare di questa situazione. Naturalmente speriamo di no, però c'è una domanda centrale a cui dobbiamo rispondere. Questi referendum che hanno un esito scontato e che segneranno l'annessione dei territori di Lugansk e di Danetsk all'interno della Russia, prevedono che anche i territori attualmente sotto il controllo ucraino vengano annessi da parte della Russia. Come farà la Russia, quindi, a prendersi il controllo di questi territori che sono ora controllati all'Ucraina? È verosimile che lo faccia con la forza, e quindi purtroppo stiamo disegnando e stiamo prevedendo degli scenari sicuramente non concilianti. Ripeto, stiamo andando verso un punto di non ritorno, nulla tornerà più come era prima del 24 febbraio scorso, e prima anche del discorso di queste ore. Il dubbio su questa nucleare e l'utilizzo della bomba è, secondo te, una vera minaccia? Stiamo rischiando tutti, alla fine, qualcosa? O possiamo considerarlo uno specchio per le allodole? Io penso che l'utilizzo dell'arma nucleare sia un'estrema soluzione che la Russia potrebbe utilizzare e non è da escludere al 100% che non la utilizzi, insomma. Quindi è una possibilità, però penso che in questo momento siamo anche molto lontani da un suo utilizzo. Insomma, sono molto remote in questa fase le possibilità che Putin decida appunto di ricorrere all'arma nucleare. Detto questo, l'arma nucleare è lì, e quindi nel momento in cui ci avviamo a uno scontro titanico, a un confronto storico tra Russia e Occidente, è difficile naturalmente prevedere fino a che punto arriverà questa conflittualità e dobbiamo tenere in considerazione che nei cassetti dell'uno come dell'altro, in particolare della Russia in questo caso, ci sono le armi nucleare e quindi dobbiamo continuare, anzi dobbiamo riniziare a prendere in considerazione la possibilità estrema, ma potenzialmente concreta, che questa venga utilizzata. verosimilmente non in tempi brevi. Domanda forse un po' banale, ma che mi sento comunque di farti. I due momenti cruciali, uno positivo e uno negativo. I momenti più, diciamo, un momento particolare che porti a casa positivo e un altro invece che ricorderai come una cosa terribile che vorresti dimenticare. Sono veramente tanti, è difficile raccoglierne uno. Anche perché spesso sono momenti agrodolci, se vogliamo. Cioè, in momenti di grande tragicità, poi si trovano delle persone, dei comportamenti dalla straordinaria umanità. penso soprattutto alla città di Mariupol in termini di tragicità, quando io entravo in questa città seguendo le truppe russe, nei vari quartieri che i russi conquistavano a mano e mi trovavo di fronte alla situazione civile in una condizione che veramente io non avrei mai pensato, non avrei mai pensato di poter vivere un contesto del genere, vedere un contesto del genere, persone che vivevano al di là dell'umanità, quindi chiusi in questi scantinati sotterranei, senza cibo, senza scaldamento nel freddo dell'inverno ucraino, senza acqua da bere, non soltanto per lavarsi, quindi senza acqua da poter bere. E quindi spesso che andavano, uscivano velocemente di casa per raccogliere della neve da poi utilizzare come acqua, oppure andavano appunto sulle ringhiera dei tetti a vedere se si era sciolta un po' di neve per raccoglierla. Quindi situazioni veramente disumane, ma soprattutto la cosa che mi faceva impressione, che toccava di più queste persone, spesso prima delle condizioni difficili e disumane in cui vivevano, prima dell'assenza di cibo e di acqua, era l'impossibilità di poter comunicare con il resto del mondo. Ovviamente a Mariupol non c'era linea telefonica, e quindi le prime cose che le persone mi chiedevano sempre, non era acqua, cibo, ma era ma tu hai un numero di telefono, prendi questo numero di telefono, il numero di telefono di mio marito, di mio fratello, di mia madre. Quando tornerai ad Agnieszka la sera, dove vivevo, dove invece c'era linea, mi chiedevano per favore chiama queste persone, per favore faccio sapere se sono vive, per favore fai sapere loro che io sono vivo, o magari fai sapere loro che invece purtroppo il suo padre, il suo fratello è morto. E quindi situazioni di, in qualche modo, di grande tragicità, ma anche di grandissima dignità, di grandissima umanità, di grandissima compostezza da parte di queste persone che da quasi un giorno all'altro, senza che si aspettassero, si sono trovati a vivere in un inferno in terra, non so come definire un altro modo, che nessuno vorrebbe mai vedere, e io personalmente non pensavo potesse esistere così. Grazie mille Luca, tra l'altro ricordiamo che il tuo lavoro ha vinto da poco il premio Elino, quindi ti facciamo anche i complimenti, perché appunto tutti gli sforzi e la particolarità del tuo lavoro sono stati ben premiati. Grazie mille anche per i tuoi commenti su tematiche di attualità, e buon lavoro e a presto, grazie. Grazie a te Claudia, a presto.